Salve a tutti, mi chiamo Deborah Vasco e mi occupo di traduzione in generale. Il mio obiettivo principale è quello di diffondere culture diverse attraverso la traduzione di testi e organizzando eventi con persone che dedicano la loro vita a specifici percorsi culturali e spirituali. Dal 2001 mi occupo di buddismo tibetano e attualmente sto sviluppando un progetto di gemellaggio con la Library of Tibetan Works and Archives ad Aramsala, col governo tibetano in esilio e questo vi ringrazio per la vostra attenzione.